Cioè, perché continuarci a schiacciare? Perché continuare a ignorarci? Io sarei felice se domani il quotidiano La Repubblica tirasse fuori una bella pagina sulla vita di Giulia Sarti in queste due settimane. Perché per due settimane lei è stata ignorata. Siamo o no tutti uguali davanti alla legge e alla Costituzione? E non tirate fuori questa cosa e l'uno vale uno perché io non la sto dicendo. Ma siamo tutti uguali. Una cosa di male è che io mi nasconda sotto il banco. La Repubblica, come Giulia sa e Stefano sanno perché li ho sentiti il primo giorno che questa storia è venuta fuori, ha espresso tutta la solidarietà, soprattutto non ha voluto scaricare quelle mail, vederle, né sentirne neanche parlare. Dai miei pezzi lo sapete. Non mi interessa, non è un mio lavoro. Forse per me non avrei fatto neanche altre cose che altri hanno fatto, però ognuno. Quindi La Repubblica, se Giulia Sarti ci vuole dire come ha vissuto queste due settimane, è ben lieta di raccontarlo.